Ciao a tutti! Dunque, questa qui è un'altra delle puntate La Germania non è il paradiso, dove io parlo bene di certe cose e male di altre cose che ho trovato. Tra le cose in cui mi sono trovata molto bene, devo dire, ci sono le piscine perché qua sono bellissime, ci sono delle terme anche molto belle e ci sono dei posti in cui si può fare addirittura la sauna, quindi ne parlo assolutamente bene da questo punto di vista della Germania. Ci sono andata un sacco di volte e mi piace fare piscina perché io nuoto da quando ero piccola, diciamo, quindi lo trovo molto 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 rilassante e ovviamente sono delle piscine molto moderne, con gli scivoli, e wow, mi piacciono molto. Questo è il primo punto di vista. Al secondo punto di vista volevo parlare delle università popolari. Personalmente mi sono trovata molto bene perché, come ho detto in altri video, gli insegnanti sono molto preparati, hanno tutti diversi anni di esperienza, alcuni addirittura 30 anni di esperienza, quindi sono veramente bravissimi, ma c'è il problema che adesso con l'arrivo dei rifugiati le classi sono piene di studenti. Ci sono anche classi da 24 studenti, 25 studenti, forse anche di più, e gli insegnanti stessi criticano questo sistema. Quindi se volete mettermi il dislike dovete metterlo anche per par condicio agli insegnanti tedeschi dell'università popolare. Ma io su certe cose dicevo le stesse cose che molti altri tedeschi dicevano, però sono state insultate in tutti i modi. L'unica cosa di diverso tra me e loro è che io sono italiana, quindi vi traduco quello che dicono loro in italiano. Un insegnante di un corso per disoccupati che ho frequentato, quando ho avuto dei problemi, ha detto in tedesco che l'agenzia del lavoro è una merda, proprio direttamente. Io l'ho tradotto, quindi sono state insultate in tutti i modi perché non è vero, io mi sono trovato bene, bla bla bla. Questa è la tua realtà, non significa che non ci sia anche la mia. Io l'ho detto in tutti i modi ma non vengo ascoltata, quindi lo ripeto finché la gente inizierà a ragionare, cioè mai. Perché come diceva un mio amico, ricordati Alessandra, alla gente fai prima metterlo nel beep, piuttosto che fagli capire le cose. Però loro non capiscono le cose e la cosa che mi fa piacere è che mi mettono i dislike, però mi fanno anche vedere i miei video di Blender e questo sarebbe il mio obiettivo, quindi io continuo a sfottervi con le mie idee. Voi vi incazzate, andate a mettermi dislike non solo a questo video ma anche agli altri video. Quindi è fantastico, è una situazione in cui non posso che guadagnarci, infatti vado avanti a cagare il cazzo. A rendermi detestabile, odiosa e una sorta di piccola strega. Nel frattempo ovviamente se io dicessi le stesse cose in tedesco sarei una super figa, però divento brutta nel momento in cui lo dico. Dico queste cose che dicono gli italiani, anche molti altri italiani, quindi dovete ucciderci tutti. E peraltro io non odio la Germania e non sputo sopra questa nazione. Dico soltanto che alcune cose non funzionano, ma anche in Italia certe cose non funzionano. Io volevo purtroppo citare quello che è successo a Genova e la mancata manutenzione, per esempio. Quello non funziona neanche in Italia. Qua le strade non sono perfette, come dice qualcuno, le strade hanno dei problemi. Ci sono anche strade fatte molto molto bene, molto molto moderne. Però non è proprio tutto è perfetto, tutto è fantastico. La strada che c'è vicino a casa mia ha obiettivamente delle buche. Con questo non significa che ci sia un odio da parte mia nei confronti della Germania, anzi. Ma tutto questo non viene capito, o meglio, capiscono solo quello che vogliono capire. Cioè a me mi insultano come un cane. E poi io delle volte ho fatto questa domanda. Ma scusa, ma se dicessero la stessa cosa a tua madre e a tua sorella? E loro non hanno neanche capito che questo non è un insulto diretto a sua madre o a sua sorella. E' una situazione ipotetica. E quindi hanno risposto Non ti permettere mai più di insultare mia madre. Cioè hanno cercato di rigirare la frittata in malo modo perché questo è una frase ipotetica. Non ho mai detto una cosa del genere a tua madre. Ne mi permetterei. Quindi non spariamo cacchiate, per favore. Io dico sempre solo una cosa. Nei miei commenti pensate sempre che quello che voi dite a me potrebbe essere detto a vostra madre o a vostra sorella. E vi invito a riflettere se vi farebbe così tanto piacere. Niente. Questo è tutto. Un bacione. 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 Un bacione.